Alti quasi un metro e mezzo di colore arancione, impossibile non notarli. Sono gli speed check queste colonnine che da inizio anno gli automobilisti di passaggio in via Volturno incontrano sulla loro strada. L'impatto è sempre lo stesso, piede sul freno e velocità che diminuisce. Innanzitutto non sono gli autovelox che siamo abituati e che conosciamo rispetto al passato. Sono un misuratore di velocità medio che attraverso questi stalli che noi abbiamo posizionati, questi stabiottini, c'è una misurazione della velocità media. Di fatto la multa scatta solamente alla presenza di una pattuglia della polizia che possa certificare l'infrazione. Finora gli speed check sono stati posizionati esclusivamente in via Volturno anche se non tutti sono funzionanti. Abbiamo visto solo dopo aver posizionato e quindi non funzionando ancora questi strumenti di elevatore di velocità abbiamo notevolmente visto la riduzione della velocità in quel tratto in via Volturno. Presto anche Viale Venezia, altra arteria importante, verrà interessata dalla sperimentazione perché di fatto di sperimentazione si tratta. Con quel posizionamento a seguito di un buon risultato, se otterremo un buon risultato e uno stato di gradimento dei cittadini andremo a posizionare successivamente.